Ehi, Fitz! Che c'è, Asmodeus? Di un po', che cos'è quello? Quello, quello è un divano! Sbagliato! Che? Sbagliato, stupido sciocchino! Quello non è un divano qualsiasi, quello è il divano di Asmodeus! Che cosa? E, Fitz, quello cos'è? È un tavolo da pranzo! No, idiota! Quello è il tavolo da pranzo di Asmodeus! Io, io non... E quelle cosa sono? Sono delle sedie! Sbagliato di nuovo, stupido deficiente! Quelle lì sono le sedie di Asmodeus! Ok, che razza di gioco è questo? Non capisco a che ti riferisci! Ogni cosa che dico per te è sbagliata! Non è vero! Che cos'è quello? Non ci casco di nuovo! E dai, Fitz! È un lavandino! Il lavandino di Asmodeus! Porca troia! Cosa? Lo stai facendo apposta! Non sto facendo niente apposta! Di che parli? Sul serio? Ehi, Fitz! Cos'è quello? È un letto! Sbagliato! Caputana! Quello lì è il letto di Asmodeus! E sopra ci sono i cuscini di Asmodeus! Assieme alla coperta di Asmodeus! Fammi capire, lo scherzo è che ogni singola cosa è tua! Esatto! E sai perché ogni singola cosa è mia? Perché questa è... Perché questa è la casa di Asmodeus! Porca troia! Ehi, Fitz! Quello lì invece che cos'è secondo te? Oh, aspetta! Lasciami indovinare! È per caso l'anfora sul camino di Asmodeus! Ho indovinato! Quella è l'anfora che contiene le ceneri di mio nonno! Oh, oh, oh mio Dio! Già! Non lo sapevo! C'è mio nonno lì dentro! Non immaginavo! Come hai potuto pensare che io potessi trattare una cosa così poco seriamente? Come ti è anche solo venuto in mente? Tu, tu stavi facendo la cosa! Cosa ho fatto? Ti stavo solo descrivendo quello che si trova nella casa di Asmodeus! Sei tu che ora fai lo stronzo! Io, 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 scusa! Non volevo offenderti! Davvero, mi dispiace! E va bene, ti perdono! E sai perché ti perdono? Perché sono l'amante di Asmodeus! Bravo! Vedo che finalmente impari! Zio Pera! Grazie! Zio Pera! опыт ed! Viecmm isp esa sod! Cosa닌! Quals! Odata! Espiratura Viola es- Tutto qui in 3 Vehicle